Finlini all'inizio dell'anno tutti eravano una squadra di bassa lassifica, invece Finlini ha sorpreso un po' tutti, compreso me, perché è una squadra che lavora tutta, quindi è umile, corrono tutti, sono medesimati nella parte, sanno che sono una squadra in una promossa, che potevano perdere le difficoltà e l'hanno compensata con grandissimo impegno, grandissima dedizione e poi anche qualità, perché poi ho visto partite in otto grosseto e altre cose. In altre partite, insomma, è dove meritavano i vicini, invece non hanno vinto, quindi è una squadra da prendere con le molte, quindi in casa soprattutto sono una squadra pericolosa, però noi ce ne referà niente di niente, noi dobbiamo andare a finire e cercare di portare via per tutti i possibili. Quindi che San Giovanni si vedremo domenica? Di sicuro combattiva, Gagliarda, una squadra dove seconde palle, contrasti, sarà vietato sbagliare e perderli e poi perché no, noi diciamo che vogliamo fare bene, ora poi come saremo domenica lo vedremo domenica, l'importante è che con la testa ci siamo, le motivazioni ci sono e quello è fondamentale. Grazie. Grazie.